Sicuramente gli strumenti che abbiamo oggi a disposizione relativamente al lavoro che si fa su gli organismi geneticamente modificati sono parte di tutto un quadro che stiamo cercando di mettere insieme per far fronte a quelle che sono le sfide del futuro inerenti sicuramente alla crescita della popolazione mondiale ma non solo, anche al suo riscaldamento globale Siamo alla vigilia sicuramente di una importantissima rivoluzione la rivoluzione in questo momento sta sotto l'acronimo di CRISPR quello che è veramente rivoluzionario relativamente a questa nuova tecnologia fermo restando che sta ancora subendo miglioramenti, migliorie e così via quello che è fondamentale è che sapremo cosa andare a modificare, dove andare a modificarlo in maniera molto più precisa rispetto a quelle che erano le tecnologie del passato che invece si muovevano in maniera un pochino più massificata per così dire adesso andiamo veramente nel gene diretti grazie a tutti grazie a tutti